Amici cari, buon pomeriggio e bentrovati a tutti. Con questo breve video vi presenterò con immenso piacere un nuovo prodotto che stavamo attendendo da parecchio tempo e finalmente oggi ci è stato consegnato in armeria. Vi sto parlando del nuovo termico di Casaleica, il Calonox Sight. Il modello Sight in particolare è un termico che arriva con un oculare per poterlo utilizzare da osservazione classica per un eventuale monitoraggio o censimento oppure da puntamento, quindi un clip-on lo si può installare direttamente sulla propria ottica attraverso un adattatore che adesso vi farò vedere. Il Calonox Sight ha una risoluzione di 384x288, è ricaricabile alla corrente e la sua batteria dura circa 11 ore, ha un sistema innovativo che si chiama Lio, Leica Imagine Optimization, che appunto è la tecnologia che Leica utilizza nelle macchine digitali, nelle loro macchine digitali, quindi sappiamo la grande qualità che hanno in quel tipo di prodotto, non solo nel campo di ottiche ma anche per quanto riguarda le macchine fotografiche. Hanno voluto abbinare le due cose ed è nato Calonox. Calonox ha una risoluzione in scala di grigi impressionante, ho avuto modo di poterlo già vedere, confrontare con altri termici e mi ha lasciato veramente sbalordito. C'è la possibilità, anzi invito tutti coloro che acquisteranno in Leica, il Calonox di scaricare l'applicazione direttamente sul telefono, in modo che si può interfacciare per vedere le immagini in streaming, ma soprattutto è comoda l'applicazione perché possiamo tararlo direttamente dal nostro smartphone, possiamo interfacciare con il menu direttamente dal nostro telefono. Quindi non c'è bisogno che lo smontiamo dall'ottica per andare a tarare, magari ad aumentare e abbassare la luce o ad aumentare e a diminuire la risoluzione. Lo si attacca all'ottica con dei semplici adattatori, in base ovviamente al diametro della campana, se è una campana da 50 piuttosto che da 56, si acquistano gli adattatori, si applicano direttamente sull'ottica e possono stare sempre mondati e il nostro Calonoxite termico da osservazione diventa clip-on. Clip-on appunto che si può mondare direttamente sull'ottica, si tara con un paio di colpi, è molto semplice, ecco qua, è già pronto per l'utilizzo. Si tara con un paio di colpi, entriamo nel menu, andiamo in poligono e ogni click digitale, perché non ha torrette, up and down, left and right, ha dei click digitale, ogni click appunto sposta 2,4 cm a 100 metri come punto di impatto del colpo. Io adesso l'ho mondato su un Leica Magnus 2416 56i, ovviamente l'abbinamento di queste due ottiche è a dir poco spettacolare e adesso entro in poligono a fare una taratura e poi mi auguro di poterlo utilizzare in contenimento e sicuramente darà belle soddisfazioni. Il suo prezzo di listino è di 3.990 più 170 euro di attacco, ovviamente questi sono come dicevo prezzi di listino pubblico dove si può fare un po' di sconto. Non ci resta che andarla a provare e vi auguro una buona serata a tutti. Ciao!